Un pomeriggio per lanciare lo sguardo verso il futuro a Palazzo Mezzanotte di Piazza Affari, sede milanese di Borsa Italiana. Grazie alla sinergia fra Cassa Depositi e Prestiti, CDP, l'istituto di promozione nazionale che promuove lo sviluppo sostenibile dell'Italia, e a Elite, l'ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, è stata infatti lanciata la prima lounge CDP Elite. Arrivano da ben 11 regioni e appartengono a diversi settori d'eccellenza nel campo manifatturiero e dei servizi, le 18 realtà imprenditoriali selezionate per accelerare il proprio processo di crescita. Temi approfonditi nel dettaglio da Giovanni Frisone, responsabile finanza per la crescita per le piccole e medie imprese di CDP. La lounge CDP Elite è uno dei prodotti non finanziari che il gruppo CDP offre alle imprese clienti. Imprese che vengono selezionate attraverso un rigido percorso di selezione e che seguono determinate caratteristiche proprie del programma. Il programma ha una durata di 24 mesi, diversi servizi che vengono offerti alle società, uno dei quali è un altro percorso di formazione dedicato al top management delle imprese con dei moduli di strategia e finanza che servono a consentire alle imprese, in particolare ai top manager, di acquisire le competenze, la cassetta degli attrezzi per poter operare nel mercato italiano e internazionale. Incontro aperto anche dall'entusiasmo con il quale vi hanno partecipato rappresentanti e dirigenti delle aziende coinvolte. Questo percorso dovrebbe farci individuare gli strumenti utili per accompagnarci in un processo di sviluppo ambizioso sia per linee interne che per linee esterne. Il nostro piano è ambizioso e quindi abbiamo bisogno di compagni di viaggio. Ci aspettiamo una crescita professionale tramite le esperienze dei nostri colleghi che vivono con questo corso e anche networking. Sostanzialmente la creazione di un network e una verifica del percorso che stiamo compiendo. Acquisire competenze, know-how al fine di implementare e migliorare al massimo il nostro piano strategico per i prossimi 5 anni. Mi aspetto un accrescimento degli skill aziendali e un confronto con i nostri, con altri colleghi che ci faccia crescere tutti insieme. La sinergia fra Elite e CDP è nata già da qualche anno in precedenza e ha portato circa 70 aziende a usufruirne con risultati positivi. Un vanto per Mauro Iacobuzio, responsabile Elite Italia, che però non vuole fermarsi qui. Oggi entrano 18 aziende all'interno della prima lounge Elite CDP e le aziende che entrano oggi in Elite entreranno in un network paneuropeo come quello di Elite che vede già oltre 2200 aziende che sono entrate in questi anni col fine di poter recuperare e sviluppare competenze e al fine di poter sviluppare il proprio mercato, la propria crescita e perché no magari una quotazione in borsa. Dalle competenze all'affiancamento, passando per i capitali per la crescita e lo sviluppo delle relazioni. La lounge CDP Elite permetterà alle aziende con un modello di business solido di indirizzare una crescita sostenibile nel lungo periodo.